Io ho già parlato con il prefetto, ho già chiesto di sorvegliare il cimitero affinché appunto non ci siano segni, non ci siano bandiere, non ci sia apologia di qualcosa di terribile con il fascismo. Quello che devo fare, non dico che l'ho fatto, ma certamente mi sono mosso con tempo perché il rischio c'è, speriamo che appunto questa capacità di vigilare ci sia e poi vedremo che succederà.